Servo il playlist Allora, se vuoi play da me non lo dici, a me dici vuoi play da basta Franci non l'ha detto, te l'ha detto René Wow, rete Franci, sei qualcosa Mi sta rectando, aiuto, aiuto, aiuto Mi sta rectando Il ragazzo l'ha tirato, what the fuck E' un pagliacchi bianco della Rai E' un pagliacchi, che i sappieri E' un pagliacchi corpo Ma perche, Jinx A ver Oh, oh... La perche ehi 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 sai franci guardami lo faccio per te ma guarda che sei sicura eh è tipo metà della tua vita no no non guardare ehhh si un po' chi fa Getsuga Tenso porco dio eh vabbè che timpati ma che male ma non può non morire eh aspetta aaaaaaaaa ragazzi guardate me lo faccio per voi questa giocata ok ti vediamo aspetta ehhh ok ti vedo ti vedo non vuoi il gold della placca ma matta te li dico wow te li ok ciao messo assassin jungle i don't see enough movement vabbè ti prendo un blueback oh porco dio no no ok non riuscivo a cliccarla ci sono gli obesi gli obesi ci stanno in questa partita madonna non 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 riuscivi non riuscivi non 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 n vabbè che è il bambino no ok che è il bambino Lei è silenciato, aiuto So easy LOL YOOHOO GAY EZ 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 Pfff 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 Francia support, Francia support Ok ok perfetto, ora Francia support, io ultro con Glead e tu mi mangi Non funziona così, funziona con Kalista, vuoi fare con Kalista Francia ultro con Glead e tu mi mangi Perfetto Cosa vuoi? WTF Io ho vinto molte volte con il mio senato di ferro WTF Porco di Luca è venuto più No! Mi ha spinto via dalla Ohohohoho Mi hai sentato Nooo Non saprei che sciacca fa marron Non saprei che sciacca fa marron You dead man Meno ve li like Allucinante Allucinante Troppo 10 parole che usano tutti i giorni Vieni qua No Oh oh! Cosa o no! E?" Cosa o no! un errato inglesi unico odio hola eh dio ma era palese oh oh ragazzi 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 punch oh 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 ora si chiede la precchiola w io vado a livello 2 what the fuck marone kick oh suck noodle dici questo caso è stato edzo abbiamo vinto così velocemente non me la sentavo cazzo si vittori ero contro i pot ah scuro ero pan ok adesso è vittori vittori wow grazie per gli altri eh riusci and we gonna italy vittori mamma mia i 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